Tesi più che sufficienti per ingannare un popolino sempre più stupido e ignorante. Questa è un po' la definizione che viene data in un video che contesta le spiegazioni ufficiali date dell'incidente aereo da poco successo sui monti della Francia. Provo un po' di sconcerto, perché in realtà non è più facile prendere posizione. In quest'epoca il popolo, la gente normale, le persone qualunque, che cercano di farsi un'opinione, di capire le cose, in realtà non hanno strumenti facili per poter conoscere le cose, ma si trovano in un continuo conflitto, senza in realtà avere poi, ripeto, i mezzi per decidere da sé. Il conflitto è quello tra una verità, tra verità che vengono proposte a livello ufficiale, tra spiegazioni ufficiali, e tra spiegazioni altre, tra chi trova appunto le contraddizioni nelle spiegazioni e propone nuove spiegazioni, che però presumono o dovrebbero in qualche modo essere dimostrate, e quindi dovrebbero avere la stessa, o dovrebbero avere a supporto non tanto la contestazione dei dati forniti dalle spiegazioni ufficiali, ma portare con sé le prove per dimostrare un'altra verità e dirci qual è l'altra verità. Rispetto a questo, che è un contesto poi sempre più sofisticato, sempre più tecnologico, che presuppone conoscenze specifiche, conoscenze tecniche, conoscenze professionali, insomma, per potersi fare un'opinione, il popolo è disarmato. Come dire, come si può dare del popolino stupido e ignorante a chi in realtà cerca di capire, ma non ha gli strumenti per capire? Allora, se non hai gli strumenti, devi affidarti. E quando ti affidi, o ti affidi alle strutture ufficiali, ti affidi alle spiegazioni di chi hai delegato politicamente a rappresentarti e quindi a tutelare i tuoi interessi, e in una società democratica, insomma, esiste appunto il voto, esiste la delega, con tutti i limiti che questa situazione ha. E quindi deleghi un potere, deleghi anche questo potere a darti le spiegazioni necessarie di fronte a un fenomeno, di fronte a qualcosa che succede e che tu non hai gli strumenti per capire. Oppure ti affidi ad altri, ad altri che non conosci e ad altri che hanno altre interpretazioni, altri strumenti, nei confronti dei quali altri tu devi fare un atto di fiducia, o nella loro buona fede, oppure nella bontà delle loro argomentazioni, che spesso sono argomentazioni però contro la verità ufficiale e che non portano dentro di sé le prove di un'altra verità, le prove a sostegno di un'altra verità. Insomma, smontano delle tesi, ma non costruiscono un impianto accusatorio di un altro tipo. E allora il popolo è un po' sconcertato. Noi siamo sconcertati perché io faccio parte del popolino stupido e ignorante. Nei panni di questo popolino stupido e ignorante io mi pongo questa situazione di fronte a queste cose. Non lo so, spesso queste spiegazioni non sono sufficienti, non le ritengo del tutto valide. Insomma, mi pongo dei dubbi anche nei confronti della verità ufficiale, soprattutto quella verità che viene data immediatamente o nei primi giorni o poco tempo dopo, quando un fatto un po' inspiegabile succede. Penso anche che questa verità è passibile poi di essere modificata, man mano che nuove tessere, che nuovi tasselli si aggiungono e che permettono di capire, che permettono di allargare o i dubbi oppure di confermare le certezze. D'altronde mi pongo anche nella situazione che o parto da una tesi preconcetta, per cui tutto quello che la verità ufficiale mi fornisce è falso, insomma, che c'è un maleficio di tutti gli organi di potere, italiani, stranieri, tedeschi, francesi, mondiali, insomma, c'è una cospirazione nei miei confronti. Quindi io parto da queste cose, per cui di principio non accetto qualsiasi spiegazione che mi viene data. E allora da questo punto di vista però devo fare un atto di fede nei confronti di chi mi propongono altre verità. atto di fede nei confronti di persone, di individui, di soggetti, di portatori di verità che spesso non conosco, dei quali mi devo fidare. E quindi anche qua devo depositare una fiducia senza essere capace io personalmente, perché sono popolino stupido e ignorante, di farmi una mia opinione basata su constatazioni, su prove, su argomenti che io stesso riesco a costruirmi e a convalidarmi. E io devo ammettere che non sono in grado di avere questi strumenti, quindi comunque devo prendere delle verità che mi vengono fornite da altri, poi le potrò ricostruire come voglio, ma devo sempre fare una interpretazione che in qualche modo è soggettiva. Allora questa cosa mi riporta un po' a quello che esiste anche per la verità dei tribunali, insomma, no? Cioè un ritorno in una situazione in cui ognuno si faceva giustizia da solo, ognuno riteneva la verità rispetto a un fatto, si costruiva la sua verità ed arrivava alla propria vendetta, oppure si affidava ad un tribunale, insomma non era più l'individuo a un certo punto a farsi giustizia da sé, ma questa giustizia veniva affidata a un tribunale, con i limiti anche di errore che questo tribunale poteva avere. Quindi veniva tolta all'individuo la possibilità di farsi giustizia da sé, ma veniva data a un organismo ufficiale, a un organismo terzo, a un organismo espressione dello Stato, espressione della collettività, che pur nei limiti dell'errore emetteva un suo verdetto al quale si si affida, giusto o sbagliato che sia, insomma. Perché poi sappiamo che la verità non è mai la verità assoluta, è sempre una verità accertata, stabilita, e quindi può essere soggetta ad errore. Questo per dire che noi, popolino, stupido e ignorante, non abbiamo strumenti per essere più intelligenti, perché sempre più la tecnica avanza, sempre meno siamo competenti per farci un giudizio nostro autonomo. Sempre più dobbiamo affidarci ad altri, tecnici oppure rappresentanti del sistema, politici. Sempre più siamo stirati tra una verità ufficiale che ci viene data dai rappresentanti di quel sistema che abbiamo eletto democraticamente, oppure da altri individui, organizzazioni, soggetti che analizzano a loro modo i fatti e stabiliscono altre verità, su altre fonti, su altre basi, con altre convinzioni. Rispetto alle entrambe le situazioni, spesso non siamo in grado, cioè dobbiamo fare un atto di fiducia. Dobbiamo stabilire che ci fidiamo degli uni o ci fidiamo degli altri. Sempre un atto di fiducia dobbiamo fare e quindi sempre stupidi e ignoranti a questo punto saremo, perché non riusciremo a ragionare effettivamente con la nostra testa. Ragionare con la nostra testa vuol dire, o vorrebbe dire, secondo me, essere in grado di recuperare autonomamente tutti gli elementi che permettono un giudizio ed avere autonomamente gli strumenti necessari per formarsi da soli un giudizio su quella cosa. Diciamo, una volta che siamo formati da soli questo giudizio, poter mettere insieme le nostre convinzioni, il nostro giudizio, e poi farlo diventare azione politica, insomma. Perché poi se ci facciamo un giudizio e ce lo teniamo per conto nostro e non agiamo di conseguenza, a questo punto serve anche poco. Sempre di più nell'età della tecnica c'è questa espropriazione, cioè ci mancano sempre di più gli strumenti. Ma questo vuol dire che siamo un popolino stupido e ignorante? Semplicemente perché non ci fidiamo a volte di certe tesi. E allora anche qua, a volte non è una questione solo di fidarci. Quello che è importante, secondo me, è di non aderire ciecamente a una qualsiasi verità che ci viene data e che non ci siamo costruita. Possiamo anche aderire ciecamente a una nostra verità. Crediamo in quello, se lo siamo costruiti, l'abbiamo fatto noi e quindi è giusto che ci crediamo. Per quello che riguarda le verità che ci vengono proposte, le spiegazioni dei fatti contradditorie che ci vengono date da una parte e dall'altra, ecco, nel momento in cui c'è anche questa contradditorietà delle spiegazioni, questo dovrebbe servire per porre il dubbio, per dire non so, non sono in grado di porre un giudizio, magari è passato troppo poco tempo, stiamo a vedere, sono aperto a spostare il mio giudizio, la mia posizione verso una o verso l'altra delle parti, spesso le parti poi sono anche molteplici, le spiegazioni sono tante, a secondo dei dati, dei contributi, delle cose che verranno e della loro credibilità, della loro ufficialità, della loro, come dire, indubitabilità, del fatto che ci si portino prove da questo punto di vista, sono pronto a spostare il mio giudizio in un senso o nell'altro, a secondo di quello che verrà fuori in tempi successivi. è chiaro che la verità ufficiale data subito spesso può nascondere delle insidie, no? È nel tempo che spesso si riesce a valutare meglio gli elementi. A volte è difficile farsi subito un'opinione, oppure ti viene la prima diagnosi che è quella più probabile, ma poi nei tempi successivi succedono delle cose che ti confermano la prima diagnosi che hai fatto, oppure che te la rendono improbabile. Secondo me dobbiamo essere elastici in questo, dobbiamo non avere certezze assolute, ma dobbiamo essere pronti a valutare le prove che ci vengono portate, anche le possibili ipotesi alternative, e quindi diciamo essere prudenti all'inizio, non credere ciecamente né a una cosa né all'altra, e poi stare a vedere come evolvono, come sono le prove che ci vengono portate a favore, o no, è un po' la volta farsi un giudizio sempre più basato su dati certi. Non vedo molte alternative a questo, però non credo che questo voglia dire essere un popolino stupido e ignorante. Si può commettere l'errore di essere estremamente fiduciosi verso un sistema, verso delle verità ufficiali che ci vengono date e sulle quali è anche giusto dubitare, che però in teoria dovremmo anche essere in grado di controllare perché rispetto a questo sistema abbiamo anche degli strumenti come il voto, come la scelta politica, come il fatto di poter nominare i nostri rappresentanti per poter cambiare queste cose. nei confronti di altri che invece anche singolarmente potrebbero essere in assoluta buona fede ed avere tutte le ragioni di questo mondo ma tante opinioni diverse o contraddittorie spesso non siamo in grado di valutare, non siamo in grado di gestirle, quindi prudenza. Mi sembra l'atteggiamento più sensato da questo punto di vista. prudenza e aspettare. Nel caso specifico del volo A320 della German Wings in cui viene supposto che sia stato abbattuto prima di precipitare insomma mi viene da pensare com'è possibile non dimostrare che sia stato abbattuto, dove è caduto, perché sia stato abbattuto e soprattutto se questi resti che poi non sarebbero dell'aereo in questione è possibile documentare che non appartengono effettivamente all'aereo in questione ma è stato uno scenario creato ad hoc. Ci sono delle cose che forse nei prossimi tempi potrebbero essere spiegate, insomma ho bisogno di più elementi per farmi un'opinione. Nel frattempo non credo né all'una né all'altra spiegazione. Mi sembra che ancora siamo in una fase troppo preliminare, abbiamo ancora troppo pochi elementi per avere delle spiegazioni certe, forse qualcosa verrà fuori ancora nei prossimi tempi e da questo punto di vista è giusto mettere in dubbio le spiegazioni ufficiali, è giusto che ci sia una dialettica tra quelle che sono le spiegazioni ufficiali e quelle che sono le spiegazioni altre. Questo però dovrebbe portare più che non all'adesione cieca verso un partito o d'un altro a una ricerca della verità sempre più approfondita. Io ho gli strumenti per capirla, no, comunque devo affidarmi, devo affidarmi all'uno o all'altro. Allora da questo punto di vista come popolo non mi sento cieco e ignorante, sento e avverto che in questa età della tecnica farsi un'opinione vuol dire avere degli strumenti che non abbiamo che ci vengono sempre più a mancare tanto più le conoscenze sono evolute e tanto più queste conoscenze richiedono come dire delle competenze tecniche che il popolo non può avere e quindi il popolo non può che riporre la fiducia la propria fiducia in persone tecniche specializzate competenti e purtroppo queste persone tecniche specializzate e competenti a volte hanno tesi opposte sostengono tesi opposte è una situazione nella quale sempre di più secondo me in questa età della tecnica ci veniamo ad imbattere e purtroppo ci rende sempre più dipendenti e sempre più insicuri sempre più ci espropria anche della nostra capacità di avere quelle certezze che in periodi in cui la vita era più semplice in cui le cose erano più facili era più più facile avere rispettiamo anche il popolo se non c'è questo rispetto qualsiasi portatore di verità tende a diventare un po' arrogante arrogante nella sua convinzione di essere colui che è il depositario della verità assoluta e questo purtroppo non c'è dobbiamo sempre avere una predisposizione al dubbio non al dubbio sterile ma al dubbio costruttivo insomma pensare che le cose siano come siamo convinti noi ma anche lasciare quel margine di possibilità che le cose possono essere anche in maniera diversa che le cose